E' una bocciatura senza appello quella di Beppe Vessicchio, volto storico della musica italiana, e del Festival di Sanremo Una stroncatura che, inevitabilmente, farà parlare molto lanciata dalle colonne della verità Per ora nessuno ha replicato ma risposte sono attese a stretto giro. L'accusa, se così si può chiamare, di Beppe Vessicchio è semplice. Sanremo non riesce più a scrivere la storia della musica L'ultima avvisaglia di due interpreti straordinari, secondo Beppe Vessicchio, nel 2001 Quando Giorgia ed Elisa gareggiarono per il primo posto, in cui si è avuta per l'ultima volta avvisaglia di due interpreti straordinari, e di brani forti Da quell'anno in poi faccio una fatica enorme a ricordare brani che abbiano lasciato il segno In particolare, sottolinea il declino del Festival di Sanremo, ormai incapace di sfornare talent musicali duraturi Dal punto di vista musicale non è più riuscito a scrivere la storia. In passato, tutto quello che è un uomo di Sergio Cammariere non vinse e non vinsero a zucchero vasco, ma lasciarono una canzone Oggi anche quelli che vincono faticano a fare altrettanto.Questo perché, dice Beppe Vessicchio. Tutto è improntato alla ricerca dell'effetto momentaneo. È tutto tra, tutto rapi Si assecondono i gusti del momento, senza sviluppare le doti artistiche. Anche se il talento non manca, e i talent show aiutano a farli emergere Lo fanno. E, almeno in ambito musicale, il talento allo stato grado funziona. Solo che non prepara alla vita Coloro che restano allo stato grado possono cavalcare l'onda oggi e domani a esserne sopraffatti Diventa necessario approfondire Conoscere la musica Conoscendo la musica non sarai sulla cresta dell'onda, ma avrai guadagnato un posto reale nel mondo che ami Comunque, Sanremo è un capitolo chiuso ormai da un po' di tempo, nonostante lo stesso Vessicchio non sia sicuro che lo sia definitivamente. Continuano a chiedermi, se farò Sanremo, e la verità è che non lo so, ne so cosa augurarmi Attualmente sta lanciando una skate comedy per ragazzi a tema horror su The Achilles, Monster Shop, dove recita e si occupa della sigla, mentre continua a partecipare alla commissione selezionatrice dello Zecchino d'Oro . Anche amici è un programma che non riconosce più. Lady CDC NDR. A Maria De Chilippi nel 2001, il programma si chiamava Saranno Famosi . Mi chiesero se potesse farmi piacere partecipare all'ipotesi di una scuola d'arte aperta parentesi quadra . Chiusa parentesi quadra si parlava di personaggi con uno spesore culturale enormi. Amici non è più lo stesso di allora . In televisioni, come dice la signora De Chilippi, per resistere è necessario saper cambiare pelle . E amici, in quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po' di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza .